Io ero veramente molto impacciata, mi aiuta molto l'autoironia che ho, tutto tutto sullo scherzo. Questo lavoro poi va preso così assolutamente, altrimenti ci rimane male. Non ci si deve credere troppo. Le amiche hanno da fare, le amiche lavorano tutti i giorni, fino alle otto di sera. E' molto figo perché loro sono rimaste quelle di sempre. Sto benissimo, andiamo al bar il sabato sera con tutti gli ometti del paese che giocano a carte. Parliamo, ci raccontiamo tutta la settimana. La differenza di realtà è fantastica, perché magari io racconto se sono stata a Cannes, questo tappeto rosso, questo bosuelis, e lo 15.50 ritirare nel rete. Mi incoraggiano, mi caricano, mi supportano. Mi aiutano ad essere quella che sono sempre stata, a continuare ad essere quella che sono sempre stata. Mi soraggiano, mi sono stato sempre stata. Mi coraggiano, mi era quella che Spirito mi ricorda, mi ricorda di essere la mia forza. Il nostro paese che non è successo. Il nostro paese che non è successo. Il nostro paese che non è successo. Grazie a tutti.